Snigureczka C'erano una volta un vecchio e sua moglie. Erano stati molto felici durante la loro vita, ma rimpiangevano di non aver avuto dei figli. Un bel giorno d'inverno la coppia vide alcuni bambini che giocavano nella neve e il dispiacere di non avere dei figli propri cominciò ad acuirsi ancora di più. Così il marito propose alla moglie di fare una ragazza di neve e di forgiarla come la figlia che avrebbero voluto avere. Così presero della neve e a poco a poco le dettero la forma e anche gli abiti di una splendida fanciulla. Non appena ebbero finito le labbra della ragazza diventarono rosse e gli occhi cominciarono ad aprirsi. Sorrise leggermente la coppia di anziani, si scrollò di dosso i fiocchi di neve e uscì come da un guscio di neve una splendida ragazza. I due furono sopraffatti dalla gioia. La portarono nella loro casa e la chiamarono Snigurechka. La fanciulla cominciò a crescere molto in fretta non di giorno in giorno ma di ora in ora. Si trasformò nella figlia che avevano sempre voluto avere. Diligente, brava, bella. La figlia che tutti sognerebbero di avere. Le piaceva anche cantare e la sua voce melodiosa sembrava come quella di un angelo. Snigurechka amava molto stare all'aria aperta, soprattutto quando si levava la brezza fresca dei monti e le piacevano tutte le creature della foresta. L'inverno passò rapidamente e al suo posto venne la primavera con le sue brezze tiepide. La ragazza smise di sorridere e si chiuse in un grave silenzio e malinconia. Che cosa sta succedendo? Si chiedevano gli anziani genitori. Stai male? No mamma, no papà, sto bene, rispondeva la ragazza, ma si vedeva che c'era qualcosa che non andava. Quando l'ultima neve si sciolse, i fiori cominciarono a sbocciare, gli uccelli a cantare, la ragazza divenne ancora più triste. Si nascondeva dal sole, non appena poteva. Un giorno delle nuvole nere comparvero all'orizzonte, portando con sé delle forti raffiche di vento e grandine. La ragazza subito si rallegrò, guardando i chicchi di grandine grossi come le perle. Però molto presto la grandine si sciolse e la ragazza cominciò a piantare. Il tempo passava e un giorno un gruppo di ragazze invitarono Snigurechka per una passeggiata nel bosco. Ella non voleva andare con loro, ma i genitori la incoraggiarono, dicendole che si sarebbe sicuramente divertita. Così, ahimè, andò con loro, e raccolse fiori, cantò, danzò con loro. Snigurechka però non era dello stesso umore e non si divertiva. Poi cominciò a scendere la notte e le ragazze accesero il fuoco con della legna che avevano trovato lungo la strada. Continuavano a ridere e a cantare e Snigurechka le guardava, finché, siccome si divertivano tanto, anche ella non si unì a loro. Per la prima volta dalla fine dell'inverno Snigurechka sorrideva di nuovo e cantava e ballava con le altre. Poi una ad una le ragazze per divertirsi cominciarono a saltare il fuoco. Anche Snigurechka ci provò, ma purtroppo il calore del fuoco con le fuse i piedi, poi via via tutto il resto. Snigurechka si trasformò in una nuvola bianca che si inalzò nel cielo e quasi come un sussurro salutò tutti e scomparve nell'immensità del cielo.